Ai ai ai, avevamo effettivamente intravisto qualche cosa, ma la denuncia sembra veramente partita. Denuncia partita da Anna Oxa, amici, a poche settimane dallo start che stiamo tantissimo aspettando per quanto riguarda Sanremo, edizione 2023, la cantante attraverso la società Oxarte ha annunciato le iniziative che prenderà nei confronti di chi sfrutta il suo nome, chi sfrutta la sua immagine in modo indebito ma soprattutto non autorizzato. La denuncia di Anna Oxa è questa. Oxarte informa. L'artista Anna Oxa e la società Oxarte sono dissociate da questo gruppo. Vi ricordiamo che a seguito di esposta di querela alcuni membri attivisti sono stati rinviati a giudizio, altre utenze indagate poi. Ci vogliamo togliere da qualsiasi responsabilità di natura civile e penale derivante dallo sfruttamento del marchio industriale registrato Anna Oxa e dello sfruttamento dell'immagine. Quindi questo è proprio un comunicato esplicito da parte della cantante che non vuole assolutamente che sui social network, gruppi, pagine, cose, riportino il suo nome né tantomeno la sua immagine. Si definisce patronimico, un marchio costituito dal nome proprio di una persona. Se si tratta di nomi noti, esso è utilizzabile solo dall'avente diritto da terzi autorizzati. Si pensi ad esempio ai marchi tipo Giorgio Armani, Gianfranco Ferré, Giovanni Rana e molti altri. Chi viola i diritti altrui consapevolmente è un delinquente e questo è un dato di fatto. Non ci sono scuse. Insomma, un bel comunicato di un certo peso, ma sempre a proposito della cantante prossima a far ritorno comunque sul palcoscenico del Festival della Musica Italiana, e in quell'ambito l'aspetteremo, di recente anche la notizia di una decisione che avrebbe potuto in qualche modo deludere i fan. Il messaggio è sopraggiunto per via ufficiale attraverso il profilo social della diretta interessata che, a seguito della notizia, non ha esitato a ringraziare per tutto il sostegno che eventualmente dimostreranno. Ricordo che la cantante ha deciso di non rilasciare più alcuna intervista fino all'inizio del Festival, quindi in poche parole Anna Oxa non potrà rispondere a nessuna domanda a partire dal 7 fino all'11 febbraio, ovvero per tutto il periodo che interesserà la competizione del Festival di Sanremo. Questo, signori, è tutto per quanto riguarda questa news. Vi auguro una buona giornata. Noi ci sentiremo alla prossima. Mi raccomando, vi aspetto.